Musica Sono passati quasi due anni dal corolo del muro di sostegno della rotonda di Platamona e continua a mancare la programmazione per il recupero dello spazio che versa in condizioni di abbandono e degrado. Lo dice Emanuele Alivesi, consigliere comunale di Forza Italia, che ritorna sul tema e chiede che fine abbiano fatto i fondi stanziati dalla regione lo scorso anno e già inseriti nell'elenco annuale delle opere pubbliche del comune di Sassari. Ciò che oggi purtroppo constatiamo è che nelle pieghe del bilancio i 300.000 euro che sono stati a giugno dell'anno scorso accantonati per il recupero dell'area oggi vengono utilizzati per la borgata di Sant'Orso, la della Gentiera e del centro storico. Poco o niente quindi rimane per il recupero della rotonda. I fondi messi a disposizione dalla regione e richiesti dall'amministrazione comunale sono adesso disponibili, spiega l'assessore Ottavio Sanna. Ci sono state date appunto un acconto di 18.000 euro e con l'approvazione del bilancio, sia quello comunale che quello regionale, avvieremo tutte le altre procedure. Si punta inoltre a coordinare l'intervento di ripristino e riqualificazione con i lavori già avviati dal comune di Sorso sul lato a destra della rotonda. L'obiettivo sia del comune di Sorso che anche del comune di Sassari è che la rotonda diventi una piazza. Lo scorso anno alla rotonda sono state eseguite bonifiche per 50.000 euro, mettendo in sicurezza tutto il litorale fino alla torre di Abba Gurrente. Quest'anno prevediamo a fine mese di aprile di installare un parco giochi proprio adiacente alla rotonda di Pratamona, il ripristino appunto con cemento architettonico, tutti i nuovi marciapiedi e il ripristino della muratura. Questo perché appunto c'è stata una programmazione che è partita dal 2016 e quindi questa estate la rotonda di Pratamona riprenderà il suo splendore storico. Con Via Diaz si è toccato il fondo, l'assessore Pius si dimetta. Questa è la richiesta di Alessio Paganini, coordinatore cittadino dell'Italia Attiva Sardegna, che ritiene la pista ciclabile un errore madornale di cui pagano le conseguenze i cittadini. E per questo, afferma, chiediamo la testa dei responsabili. Nonostante le denunce dell'opposizione di parte della maggioranza in seno al Consiglio Comunale e alle proteste di tanti cittadini di Cepaganini, il sindaco Nicola Sanna e l'assessore alla mobilità Antonio Piu continuano a negare l'evidenza, andando dritti sulla propria strada. Già da subito fa notare il coordinatore di IAS e gli abitanti di Via Diaz avevano espresso il loro disappunto sull'eliminazione dei posteggi sacrificati per il circuito ciclabile. Ora però vedono ridursi drasticamente anche lo spazio percorribile delle auto, con notevoli disagi per i mezzi di soccorso e quelli della nettezza urbana. Per Alessio Paganini è dunque giunto il momento che cada qualche testa. Non è possibile fare errori così gravi e perseverare nel farli, anzi difenderli, non tenendo conto dei cittadini che subiscono impotenti le scelte errate di una giunta comunale distante anni luce dai veri problemi della città e dei suoi abitanti. La decisione di chiedere dimissioni dell'assessore Piu per poi passare quanto prima a nuove elezioni arriva dopo l'incontro urgente tenuto al direttivo IAS nella serata di ieri in seguito alle dimissioni del vicesindaco Gianni Carbini. Visita a Fiume Santo dell'assessora dell'industria Maria Grazia Piras che si è recata negli impianti della centrale termoelettrica gestita dall'EPI nell'area industriale di Porto Torres. Piras ha incontrato l'amministratore delegato della società EPI Produzione, Luca Alippi. La centrale, come ha rimarcato la titolare dell'industria, è una realtà imprenditoriale importante del territorio e dà lavoro a altre 400 persone tra diretti e indotto, senza contare le aziende dell'autotrasporto. L'assessora ha sollecitato la proprietà perché si accelerino i lavori per la dismissione dei gruppi I e II. Ci sono evidenti ritardi e l'auspicio è che i problemi che hanno causato questi ritardi si possano risolvere nel più breve tempo possibile. L'esponente della Giunta ha anche chiesto confermezza un incremento del numero delle aziende e della manovra locale, non solo per assicurare forza lavoro, ma anche per permettere alle aziende di accrescere le certificazioni e partecipare così ai lavori di una certa consistenza. Nel corso dell'incontro, infine, è stata evidenziata la grande produzione di gesso all'interno del sito. Si tratta di un sottoprodotto di altissima qualità che attualmente viene portato fuori dalla Sardegna e che invece potrebbe essere usato da parte di aziende locali per completare la filiera produttiva, conclude l'assessora. Fin qui abbiamo riportato il contenuto del comunicato della Regione nel quale non si legge alcun commento dell'amministratore a favore delle richieste avanzate dalla PIRAS. Si presume che Alipi porterà ai piani superiori della gerarchia le sollecitazioni della Regione e che PIRAS coltivi delle aspettative su questi passaggi, altrimenti non sarebbe chiaro il senso stesso della visita a Fiume Santo. Non tutte le città possono annoverare nell'albodoro dei loro cittadini uno come Enrico Costa. Così lo storico Maglio Brigaglia spiega la nascita del Comitato che promuove la celebrazione della figura dello scrittore, storico e politico sassarese con una statua bronza e ad installare in Piazza Fiume di fronte all'abitazione in cui Costa è nato e cresciuto. A Palazzo Ducare la conferenza stampa di presentazione del Comitato Monumento Enrico Costa sorto per iniziativa di alcuni cittadini sassaresi che già hanno avuto il pieno supporto dell'amministrazione comunale e di altre importanti istituzioni. Il gruppo di lavoro nato al fine di onorare la figura del grande storico e letterato della città si prefigge la realizzazione di un monumento in onore dello scrittore in sintonia con i cittadini e le organizzazioni pubbliche e private. Il Comitato, costituito da 13 persone, tra storici, politici, editori, libri professionisti e rappresentanti della vita economica, culturale e sociale della città hanno promosso una raccolta di fondi a sostegno dell'operazione attraverso un IBAN dedicato. Nel nome di un grande cittadino che è stato un grande innamorato di Sassari che ne ha ricostruito e rilanciato la memoria serva non solo a svegliare i sassarisi ma a svegliare in loro l'amore per la loro città. Alla presenza del sindaco Nicola Sanna, dell'assessore della cultura Raffaella Sau e alla consigliera d'amministrazione della Fondazione di Sardegna Angela Mameli I rappresentanti del Comitato, Maglio Brigaglia, presidente onorario e presidente in carica Totoporcu hanno illustrato i dettagli dell'iniziativa e l'intento del Comitato. Avere la possibilità di incontrarlo, di muoversi con lui, di arrivare in Piazza Fiume e improvvisamente avere la sua presenza vicino. Il sindaco Nicola Sanna ha ribadito l'importanza del progetto sostenuto con convinzione dall'amministrazione comunale in quanto Costa è un emblema di Sassari se non fosse per lui, gran parte della storia della città sarebbe andata perduta. Si susseguono le celebrazioni per l'8 marzo. Al mio fianco la dottoressa Gabriella Gasperetti che oggi è relatrice in un importante convegno a Porto Torres. Di che cosa si tratta? Abbiamo deciso di chiudere la settimana dedicata alla festa della donna con una conferenza che tratta del porto di Turis Libisonis in età romana e delle donne del mare, ovvero delle presenze femminili attestate dall'epigrafia dei ritrovamenti dei materiali archeologici rinvenuti proprio nel porto di Porto Torres durante scavi della soprintendenza. I reperti più importanti che avete trovato, le testimonianze che vi hanno stupito di più? C'è l'imbarazzo della scelta. Parte tutte le strutture abitative, gli assi viari trovati lungo la linea di costa con pregevoli pavimenti a mosaico. Abbiamo centinaia di migliaia di reperti che vengono dall'escavo del bacino commerciale del porto di Porto Torres e tra questi ci sono alcune testimonianze epigrafiche di lavori fatti durante gli imperatori severi per nuovi moli per proteggere il porto dal vento di Aquilone, cioè il vento di nord o nord-est e una straordinaria tabella che ricorda l'esenzione dei dazi portuali per la vestale massima a Flavia Pubblica che è la vestale massima di Roma della metà del III secolo d.C. Che tipo di donna era la donna in epoca romana? Le donne in epoca romana avevano una presenza nella vita pubblica non molto evidente. Le più importanti erano le vestali, avevano una serie di diritti sanciti proprio dal loro status. Le erano imprenditrici ma anche collegate direttamente all'imperatore come pontefice massimo che per esempio nel caso di Flavia Pubblica le aveva incaricata di recuperare i cereali il grano necessario alla celebrazione dei mille anni della Fondazione di Roma. A sei giornate dal termine della fase regolare del campionato di Serie D abbiamo sentito il direttore sportivo del Latte Dolce Adriano Fantoni che fa una disamina del momento della formazione bianco-celeste. Fermi per squalifica Cocco e Piga, Mr. Paba potrà contare ai suoi rientranti Patacchiola e Canalini. Si andrà a far visita all'Alba Longa, squadra che occupa la quarta posizione in classifica in piena zona play-off. Il GM del Latte Dolce parla di una squadra che necessariamente deve navigare a vista e cercare di capitalizzare al meglio le partite che si devono affrontare con la consapevolezza di poter ambire al mantenimento la categoria senza passare per i play-out. Sarebbe una vittoria per una società che fa del suo settore giovanile il suo punto di forza. Diventano sei finali e si dovrà dare il meglio per raggiungere un obiettivo che premerebbe l'impegno di un gruppo coeso meritevole di un premio importante.